Tu turututututu, il meglio! Tu turututututu, che bello! Tu turututututu, che bello! Accalzate tutto il mese, tu le guardi tutte qua! No, è Ader! No, no, è suonato il citofono, che faccio? Chi è? E' questo! Chi è? Cazzo! Io ho buttato giù, poi è risuonato un'altra volta subito dopo, e poi ormai presumo sia andato via o l'abbiamo arrestato, o sta dormendo e vomitando davanti al pianerotto. Ricordatevi che succedono due cose a 500 download. Allora, se si raggiunge i 500 download, si fa il raduno figo, e morde subgift a 50 subgift, e quindi becca anche voi. Di sicuro. Secondo, se no Muffy muore. Eeeh, voi non volete muoia Muffy. Spero. Ancellai? Io te lo tiro così. Cosa ne pensare la collezione chiamata Blossomintotto Eyes del stilista Balzellotti? Sai, io Balzellotti lo seguo sin da quando fondamentalmente ero un ragazzino che faceva le cuciture per Gucci. Balzellotti ha fatto una grande carriera, il drop di quest'anno è imprescindibile, direi quasi audace, l'azzarderei quasi dire pleonastico, se non quasi subuteo. Grazie mille, era veramente tanto che nessun stilista osava dire la parola subuteo, e invece lei l'ha usata proprio come se non fosse niente. Sì, lo so che è molto audace dire subuteo, specialmente in un periodo storico come questo, ma d'altronde è la Fashion Week, se non lo facciamo qua che siamo ribelli. Grazie mille, andiamo avanti. E se riparte a tezzone, dalle bronti, così ti avete usi, dusi, trisi, quasi, cisi, Sesi, setti, otti, novi, dieci, pulli, trotti, pisti, nari, polenta, giannone, settalio, poserchia, giavede, strobi, gnato, gono spanadiga. Oh, mi ha tolto un driade. Oh no, e adesso come farò, so? Come farò adesso? Come farò adesso? Come farò adesso? Come farò adesso? È l'NPC che si vaga. Come farò adesso? 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 Scusate, va. Ok. Grazie a tutti. Ho vinto! Devo conquistarla. Cosa cazzo vuol dire? Devo conquistarla. È una provincia bretone, esatto. Cazzo devi conquistare un castello da espugnare. Dai, non chiudere. Nissa. Nissa o X-Land. Mi sa che devo giocare a 4 X-Land. Sono scemo. Fixano un botto. Fix-Land. Scusate. 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 C'ha l'orchetti di merda, il coglione. C'ha l'orchetti di merda. Mettitele in culo l'orchetti di merda. No, c'ha Montefausto. Basta, fine. Ciao. Ciao. Mettitele in culo gli orchettini. C'hanno l'orchetti. Pesuca. Foreste. Cos'è che serve per vincere a Magic? Foreste. Doppia ulti di Nissa, 60 danni. Questo serve per vincere a Magic. E l'orchetti? Non puoi prendere. Poi, questo era un gran tavolo. Sei. 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 Ripeto. Sei. Velocità. Sei. Sei Maranovei? No, non ho capito. Muore. Sempre. Internet. È bellissima. È una di quelle giornate dove io e il mio cervello siamo due persone distinte e io sono qua che ascolto quanto voi. Non posso. ce l'hai o non ce l'hai? Secondo voi, le legge le carte? No. A parte che non ha l'Ital. non ho capito sta cosa. Nemmeno io le leggo le carte però. un attimo il masturbino, no? Sono i mazzi masturbini, quindi ogni tanto devono fare il masturbino. La polvere a Milano è diversa. Sembra farina. Aspetta. Ah, sì, 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 sì. I numeri. Il mistero di Arena. C'era una volta gazzone. Era un cazzone. Aveva il cazzone. La sua ragazza le disse e lui disse come godi male, signorina. Lei è fine della storia. Io ti amo. Sono Io ti amo. Il dissidente. Sava al cavolo. Il mio robot nelle lande di Gozoble. Finché non ho incontrato lei. Lei che mi ha fatto perdere la retta via. Lei che ha prosciugato tutte le mie finanze e il mio tempo. Lei. Marvel Snap. No, scusa. Gianni. Uh, la scammata. Eccola qua. Vai, piccione? Piccione. 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 Pirrone. 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 Terrone. E quante altre cose con rune esistono in italiano? E' come ti mandavo una schifa. Oia. Oia. Sono andato troppo lungo. Piccione del muro. Mi son salvato. Ah, la terra sbarra sbarra sbarra. Scendo la terra sbarra sbarra sbarra. Scendo la terra sbarra sbarra. Delmo, ma è Palantir. Non lo vedi l'accento sbrorresgo del cazzo dentro il tuo cazzo? Eh, perché non hai letto a pagina 7 dell'approfondimento numero 14 del segno degli anelli dove è perfettamente specificato dal professor Janis Brodins che aveva fatto un trattato su Tolkien e che sì, che c'è scritto che si dice Palantir e non Palantir perché sei veramente uno stronzo. In questo mazzo, in questo momento now sono 20 trattino 4 ma ora sono passato al best of one e purtroppo il tracker conta comunque tutto insieme che è un problema. È brutto. Dovrebbe essere separato best of three e best of one con lo stesso mazzo. Dovrei fare clona, cambia nome e giocarlo quello in best of one per capire le cose separate. Ho voglia? No, sono l'idormese. Quindi andremo a senso. Oppo sta morendo di popò addosso in questo momento in questo momento in questo momento, mi sa. Ganji! No, mi sono ficcato una ditata nel culo ho sbagliato. Aspetta. Guarda, sono un t-hati, Dio merda. Ok, devi pescare male. Dio cane! Vaffanculo! No, dai, che fai cacare! No, sono l'idormese! No, dai, che fai cacare! Grazie a tutti.